Parto io oggi e era impossibile fare altrimenti visto che utilizzerò il primo minuto per un'auto celebrazione Giusta, giusta Giusta questa volta Infatti ho preso 5 partite su 6 nella scorsa schedina e sono andato vicinissimo perché se Reina non fa il miracolo nell'ultimo tiro appunto di Perotti e quindi la Roma pareggia avremmo vinto Incredibile ma vero Ci siamo quasi, dopo le critiche nei commenti ci sei quasi e quindi sei pronto a portare a casa il bottino grosso Devo dire che un po' sono stato contento di non aver vinto Perché non l'hai giocato? Non avevo giocato la scuola Per una volta capita Mi fido nemmeno io di me stesso E vabbè ma vedrai che questa volta andrà sicuramente meglio perché siamo qui come sempre per sfidarci ancora Esatto, siamo qua per sfidarci come sempre commentate, bando alle ciance andiamo molto leggeri, molto semplici Parte Angelo con il sabato, vado io con la domenica, commentatevi, rispondiamo e magari stavolta vinciamo Speriamo, speriamo e incrociamo le dita, incrociatele anche voi Partiamo dalle sfide del sabato, non ci sono sfide molto affascinanti, ce n'è solo una, la lascio per ultima Partiamo dalla mia cara Serie B, la sfida tra Spal e Cesena, due squadre agli opposti La Spal che comunque sogna di arrivare in Serie A, un anno solamente dopo la promozione in B Secondo posto in coabitazione con il Verona, un grande floccari da quando è arrivato a gennaio Un ottimo Mirko Antenucci, quindi un attacco importante, tra l'altro salutiamolo che ci guarderà sicuramente Arriva da una vittoria in trasferta a Salerno, una vittoria importante Dall'altra parte invece c'è il Cesena che arriva da un pareggio con il Latina Serie alzata rispetto all'inizio del campionato, però comunque sempre sotto le attese C'è un grande giocatore a Tecaro che è Ciano E' un giocatore di qualità che meriterebbe probabilmente un palcoscenico più importante Speriamo di vederlo in Serie A magari l'anno prossimo Oppure in B col Foggia magari l'anno prossimo Spa al Cesena gioco 1 che ha dato a 2, mi sembra una quota abbastanza alta Poi l'altra sorpresa della Serie B di quest'anno che è il Benevento Il Benevento che arriva però da due sconfitte consecutive E' sempre l'Inzo, piena zona playoff, sogna anche le streghe Un posto per lottare per la Serie A Dall'altra parte la Virtus Entella che ha pareggiato con il Vicenza nell'ultima di campionato E' a metà classifica per questo motivo, per la voglia del Benevento E anche la qualità che ha dimostrato la squadra di Baroni fino a questo momento Gioco l'1 che ha dato a 1,90 Poi mi sposto in Spagna dove gioco due partite Una Malaga alla Vesci, il Malaga ha appena cambiato tecnico come che l'impanchina E per questo motivo gioco l'1 che ha dato a 2, sappiamo? C'è una zanzara nel frattempo qua che la salutiamo Male il zanzare a marzo comunque Adesso riprendiamo Il Malaga che ha cambiato allenatore E quindi sappiamo che il cambio di allenatore spesso porta a qualcosa di importante E quindi gioco l'1 che ha dato a 2 Poi Valencia Sporting Guion, il Valencia che fatica a segnare come lo Sporting Guion Però c'è Zazza E quindi io punto a un 1-0 Della squadra di casa Quindi no goal che ha dato a 2 E 0-5 Esatto, bravo, specifica perché molti No goal vuol dire che può finire 1-0, 2-0 Una delle due squadre non deve segnare Per questo motivo gioco col Malaga La zanzara la uccidiamo E il Valencia Sporting Guion, no goal 2-0-5 Poi Bournemouth-West Ham X con lo United per il Bournemouth E per il West Ham invece una sconfitta Con il Chelsea Gioco la squadra di Wishart Che è uno degli uomini di mercato per la prossima stagione L'1 che è dato a 2-55 Infine, chiudiamo, è stato un po' troppo lungo Genoa-Samp Il terbi della Lanterna In quanto derbi gioco una X Alza la quota 3-20 Da una parte Muriel Dall'altra la quota mandorlinica Comunque sta dando i suoi effetti X a 3-20 5 euro 700 euro pulito Basso rimani, scusate per la parola Ci sta, dai Chiediamo scusa anche a tutti gli amanti delle zanzare Vado invece con la mia scheda Io sono molto nazionalista questa settimana Perché gioco tutte le partite italiane 4 della Serie A e 2 della Serie B Quindi parto con la Serie B Novara-Provercelli Il derbi Un derbi importante Il Novara si è rilanciato anche in ottica play-off Quindi vuole continuare questa risalita Che potrebbe portare la squadra di Boscaglia A disputare appunto i play-off per la Serie A Mi gioco quindi l'1 Nonostante anche la Provercelli Abbiamo trovato in Aramu Un giocatore importante Tra l'altro seguitolo perché C'è la possibilità di vederlo al Torino Dall'anno prossimo Un giocatore proprio prodotto dal Vivaio Granata Quindi dicevo L'1 nel derbi premontese Lato a 1-82 E la vittoria del Novara Dopodiché Vicenza-Pisa Una sfida tra due tecnici che hanno giocato entrambi Serie A Bisoli da una parte e Gattuso dall'altra Una sfida tra due squadre che devono rincorrere all'obiettivo salvezza Privilegio il fattore casalingo Quindi anche in questo caso mi gioco l'1 La vittoria appunto dei Veneti Che hanno trovato in De Luca Un bomber veramente importante per le loro speranze appunto di rimanere in caratteria Quindi un 1 dato a 2-30 Dopodiché quattro partite di Serie A Parto dal derby di Mezzogiorno Il derby del Tortellino Sassuolo-Bologna Un derby che arriva in momenti abbastanza diversi Il Bologna è in una situazione veramente difficile Donadoni è a rischio Addirittura secondo quelli che sono i rumors Proprio attorno alla società Rosso-Blu Il Sassuolo invece fa qualche partita migliore rispetto magari alla prima parte di stagione Anche se comunque non sta vivendo la sua stagione più esaltante Da questo punto di vista Quindi rimango su una X in questo derby Che potrebbe accontentare entrambe le compagini Una X data a 3-30 proprio nel derby di Mezzogiorno E altre tre partite poi Pescara-Udinese Anche in questo caso privilegio il fattore X Un Pescara che con Zeeman Sembra avere scoperto la capacità di segnare Chiaramente le difficoltà in difesa Si continuano a farsi sentire Però magari essendo davanti al proprio pubblico All'Adriatico contro un Udinese Che non ha più molto da chiedere al campionato Nonostante poi abbia affermato la Juve sul pareggio Ci può uscire appunto un risultato anche di pareggio Con tanti gol Quindi una X data a 3-40 Chievo Empoli Stesso discorso più o meno Con la differenza che però l'Empoli questa volta Inizia magari ad accusare qualche difficoltà Dovuto al fatto che non riesce più a racimolare molti punti Da quando si è infortunato Micelizze Però non riesco a non privilegiare il Chievo Che è a riduce della sconfitta di Milano contro il Milan Dove comunque ha giocato bene E al 20 gol è difficile che sbagli Quindi mi gioco l'1 Comunque la quota è alta è a 2 E per questo nonostante il Chievo abbia poco da chiedere Appunto privilegio i veronesi Chiudo con un po' il big match Quello che consideriamo il match in chiave europea Per quanto riguarda la domenica Che è quello tra Inter e Atalanta Inter-Atalanta sfida tra due squadre in nero azzurro E sfida tra due squadre separate da un punto in classifica Con un Atalanta veramente in forma smagliante Che andrà a Milano per fare la partita Nonostante questo io privilegio la caratura tecnica dei nero azzurri Sono d'accordo con te Esatto Che comunque appunto hanno giocatori migliori Nonostante comunque l'Atalanta abbia un gioco veramente importante E torni Gasperini da ospite In una sfida che per lui non è mai come le altre Quindi vabbè Fattore casa 1,75 Con 5 euro 821,92 E per quello che ho dato quella parolaccia prima Perché stavolta incredibilmente sono io quello che gioca più alto E sì, giochi di più E quindi ci siamo già adilungati troppo oggi Per colpa di quella zanzara Fashionista che si è appoggiata sopra la telecamera E quindi da Angelo Taglieri E Alessandro Di Giaia Un saluto a tutti i lettori di calciovercato.com Aspettiamo come sempre i vostri commenti Per un confronto pacifico Se non è pacifico Ci pensa il mio collega qua di fianco Ciao a tutti